Una volta mi trovai in gara con lui e ricordo di essere rimasto stupefatto da quell'uomo. Era il campione del popolo. Spesso pedalava seguito da 50, 60 persone in pista, venerato come una divinità. Mi dice, io smetto di correre. Mi dice, perché di là c'è la mafia. L'hanno voluto togliere via, dava fastidio. Purtroppo, un tremano.